Noi pensiamo che i lavori per la sistemazione della strada, del ponte, del sottopasso eccetera potranno essere pronti prima di Pasqua. Ovviamente i lavori strutturali che andranno ad incidere anche sull'attività dei bagnini eccetera, quelli saranno fatti a settembre. Comunque vorrei tranquillizzare, i fondi ci sono, abbiamo come dire dei tempi burocratici perché non dipende solo da noi ma dipende anche dallo screening di via che abbiamo già chiesto per cui crediamo che comunque entro la fine dell'anno i lavori che abbiamo promesso saranno finiti.